Ciao amici, un'offerta incredibile solo per giovedì 2 ottobre 2014, Tiscali promo one day solo per giovedì 2 ottobre, 22,95 attivazione modem gratuito, 22,95 per sempre, ADSL 20 mega e le telefonate con lo scatto e la risposta. Chi volesse invece le chiamate comprese ai fissi e ai cellulari di tutta Italia solo 27,95 euro. Chiamatemi subito, ciao da Andrea!